queste sono le poche immagini che abbiamo a disposizione del camp delta la prigione voluta da george bush è aperta nella base americana di guantanamo l'undici gennaio del 2002 e dove sono finite 800 persone sospetti terroristi catturati in giro per il mondo dall'esercito e dai servizi di sicurezza americani fecero scandalo queste foto la croce rossa internazionale accusò gli usa di non rispettare la convenzione di ginevra ma l'allora segretario della difesa donald ramsfeld rispose dicendo che si trattava di combattenti nemici cui non andava applicato alcuno dei diritti della convenzione non erano quindi prigionieri di guerra né imputati di reati ordinari non avevano avvocati non potevano rivolgersi ad una corte degli stati uniti venivano interrogati dai servizi segreti e giudicati da speciali tribunali militari e vivevano in uno stato di detenzione a tempo indefinito senza un processo senza uno straccio di sentenza per otto anni non si sono conosciuti neanche i nomi e cognomi degli internati fino al 2010 quando assange pubblica un file che chelsea manning aveva inviato a wikileaks con l'elenco dei nomi e le schede di tutti quelli che erano stati illegalmente arrestati e detenuti a guantanamo e scoppia lo scandalo per la prima volta si è potuto scoprire perché erano lì e era pazzesco perché si scopriva che uno si era messo a combattere con i talibani perché avevano fatto una lotteria perché era arrivati i talebani nel villaggio e siccome nessuno voleva offrirsi volontari i vecchi del villaggio temevano la rappresaglia hanno preso hanno indetto una lotteria e il povero disperato alla fine era finito a guantanamo un altro è stato mandato a guantanamo perché conosceva i sentieri impervi delle montagne cioè solo 150 di loro dalla stessa task force venivano considerati pericolosi ma gli altri no gli altri assolutamente no sono rimasti lì per tanti anni e sono stati torturati sono stati trattati in modo abominevole alcuni sono morti misteriosamente per esempio e sono usciti da guantanamo in una bara uno di 89 anni malato di denè menza senile portato lì i bambini almeno 22 bambini portati lì torturati brutalmente alcuni la guerra al terrore lanciata dagli americani ha comportato una violazione continua e costante dei diritti umani e ha fatto diventare regola questo abominio che vedete sono le foto scattate dagli stessi torturatori americani nella prigione di Abu Ghraib in Iraq e mostrano le tecniche di interrogatorio, umiliazione e degradazione cui erano sottoposti i detenuti iracheni a rivelare al mondo intero le torture di Abu Ghraib era stato Seymour Hersh il giornalista americano premio Pulitzer nel maggio del 2004 con questo articolo pubblicato sul New Yorker dove rivelava il contenuto di un rapporto interno stilato dal generale Taguba quando poi ho conosciuto il generale Taguba di persona ho scoperto che la sua carriera era stata rovinata perché aveva scritto quel rapporto aveva fatto qualcosa che è assolutamente sorprendente ha davvero detto la verità in quel rapporto e nell'esercito americano si fa carriera se si è omertosi non si va avanti dicendo la verità e Taguba sapeva benissimo che la sua carriera sarebbe finita infatti una volta mi raccontò che dopo aver steso la prima bozza del rapporto il generale a quattro stelle che dirigeva il comando in Iraq gli disse Tony, se consegni il rapporto così come l'hai scritto se non lo fai più morbido finirai per essere indagato e Tony mi disse, e quelle frasi non le dimenticherò mai sono stato nell'esercito 31 anni ed è la prima volta che capisco che ero nella mafia Nell'articolo lei ha scritto che quello di Abu Ghraib era un sistema voluto e coperto dall'alto certo che c'era una scala gerarchica i detenuti venivano picchiati a morte ed era tutto coperto e quando stava facendo la sua indagine il generale Taguba sapeva che c'erano informazioni che gli erano state nascoste c'erano alcune persone elencate come ufficiali dell'esercito che non riuscì mai a trovare sapete questa è l'arroganza del sistema nelle accademie militari ti riempiono la testa con parole come l'onore, il dovere, la patria beh, non sono così sicuro che siano queste le priorità penso che la vera lezione che ti inculcano sia quella di proteggere i tuoi commilitoni ed è quello che succedeva ad Abu Ghraib dove tutto era coperto Ben Wiesner è il direttore dell'Associazione Americana sulle Libertà Civili è il principale avvocato di Edward Snowden l'ex analista dell'Agenzia per la Sicurezza Nazionale che ha rivelato che gli Stati Uniti avevano messo in piedi uno spionaggio illegale di massa sempre in nome della Sicurezza Nazionale tutto inizia con l'attacco alle torri gemelle il governo dice che è un'emergenza che ha bisogno di poteri speciali per combattere il terrorismo e li ottiene nuovi poteri per la sorveglianza in modo da poter ascoltare le telefonate e intercettare le email nuovi poteri per la detenzione e così è nata quella isola fuori dalla legge che è la prigione di Guantanamo e le prigioni segrete dove la CIA faceva sparire le persone nuovi poteri per gli interrogatori e così il governo ha autorizzato la tortura nuovi poteri per uccidere anche fuori dal campo di battaglia utilizzando i droni il problema è che l'emergenza non finisce mai e anche i poteri speciali non finiscono mai come avvocato Ben Wiesner si batte da 10 anni contro gli abusi e le violazioni dei diritti umani della guerra al terrore e ha avuto il coraggio di portare alla sbarra persino la CIA difendendo Khalid El Masri un cittadino tedesco arrestato illegalmente mentre faceva una vacanza in Macedonia trasportato in una prigione segreta in Afghanistan e torturato dalla CIA l'unica colpa di Khalid El Masri era di avere un nome molto simile a quello di un sospetto terrorista di Al Qaeda sono convinto ancora oggi che se non fosse stato un cittadino europeo se fosse stato un cittadino del Pakistan o del Marocco o dello Yemen sarebbe finito dritto dritto a Guantanamo ma era un cittadino tedesco e così dopo 5 mesi viene portato in aereo in Albania e riportato in Germania dove gli è stato detto non dire mai a nessuno cosa ti è successo nessuno ci crederà ma lui è venuto da me per chiedere giustizia abbiamo intentato una causa contro la CIA ma il governo ha opposto il segreto di Stato e quindi il caso doveva essere archiviato senza alcuna sentenza ora spesso si accusano i whistleblower come Edward Snowden e Chelsea Manning perché avete consegnato le informazioni ai giornalisti siamo in un paese democratico ci sono i tribunali per giudicare questi casi c'è il Parlamento, il Congresso a cui ci si può rivolgere ma io ho passato 10 anni nei tribunali per ottenere giustizia e verità per questi abusi e mi è sempre stato detto questi fatti non possono essere giudicati perché c'è di mezzo la sicurezza nazionale lei sta dicendo che Edward Snowden e Chelsea Manning sono riusciti laddove neanche i tribunali ce l'hanno fatta penso che sia esattamente così guardiamo agli ultimi 20 anni negli Stati Uniti dall'11 settembre in poi e immaginiamo cosa non sapremmo se il governo avesse coperto con successo tutto ciò che voleva tenere segreto non avremmo saputo che l'esercito americano torturava i prigionieri ad Abu Ghraib e li umiliava sessualmente non avremmo saputo che la CIA aveva una rete di prigioni segrete in tutto il mondo dove faceva sparire persone e le torturava e la lista purtroppo è lunga nella lunga lista dei crimini compiuti in nome della sicurezza nazionale della guerra al terrore c'è anche Abu Omar il cittadino egiziano che il 17 febbraio del 2003 viene rapito illegalmente a Milano da una squadra di 26 agenti della CIA e queste sono le foto scattate dagli stessi agenti pochi giorni prima del sequestro lo prendono in questa via lo fanno salire su di un furgone lo stordiscono e lo portano alla base USA militare di Aviano dove con un jet della CIA finisce al Cairo in Egitto in un carcere segreto dove verrà lungamente torturato delle centinaia di sequestri illegali fatti dalla CIA nel mondo intero quello di Abu Omar è l'unico che è finito in un tribunale e i 26 agenti della CIA responsabili del sequestro sono stati condannati in via definitiva a fare le indagini e a ottenere le sentenze erano stati i PM Ferdinando Pomarici e Armando Spataro della procura di Milano quello che infatti la CIA non sapeva è che Abu Omar era sotto intercettazione da parte della procura di Milano come sospetto fiancheggiatore di gruppi della GIAD ma quello che poi accadrà è il suo rapimento eccetera danneggia le indagini è un'altra ennesima dimostrazione dell'inutilità anche di queste operazioni di sequestro illegale perché poi Abu Omar viene trasferito al CAI o viene torturato ma non esce fuori niente da quelle torture no assolutamente la inutilità di queste operazioni è certificata persino dal Senato americano mai una sola volta questa prassi è servita o a sapere la verità o a evitare un attentato o a determinare un arresto neppure una volta poi ci sono esperti delle tecniche delle torture che spiegano bene come il torturato non dice la verità ma ciò che il torturatore si attende un reato di estrema gravità non in un paese democratico ma assolutamente soprattutto per queste finalità pensare che le democrazie possono applicare la cosiddetta teoria americana la war on terror è assurdo perché non conta l'accertamento della verità in una sede giudiziaria formale va bene conta portarli via torturarli e tentare inutilmente di ottenere informazioni inutili questa è la verità e poi è anche un atto diciamo di spregio della sua umanità nazionale non si può pensare che anche in un quadro di collaborazione tra servizi segreti che è del tutto normale si possa accettare che qualcuno venga rapisca una persona se la parte via da un aeroporto peraltro italiano nessun presidente del consiglio nessun paese nessun governo potrebbe tollerare qualcosa del genere oltre ai 26 agenti della CIA che hanno sequestrato a Buomar la procura di Milano manda a processo anche i vertici del sismi i servizi segreti italiani con l'accusa di aver aiutato l'operazione ma scatta il segreto di Stato che impedisce che il processo vada avanti un segreto di Stato che verrà rinnovato da tutti i governi che si susseguono di centrodestra e di centrosinistra mentre nessun ministro della giustizia italiano chiederà agli Stati Uniti l'estradizione degli agenti condannati della CIA sia ben chiaro è ben difficile pensare che gli Stati Uniti ricevendo una richiesta potessero estradare gli appartenti alla CIA ma ecco torniamo alla dignità e all'onore di uno Stato tu intanto lo mandi poi tocca agli Stati Uniti dire sì o no quanto siano state forti le pressioni degli americani sui governi italiani per salvare gli agenti della CIA lo abbiamo capito quando abbiamo letto questi rapporti segreti trafugati da Chelsea Manning e pubblicati da Assange questo è un dispaccio del 24 maggio del 2006 inviato dall'ambasciatore americano a Roma Ronald Spogli al Dipartimento di Stato Spogli dice ad Enrico Letta all'epoca sottosegretario alla presidenza del secondo governo Prodi che nulla avrebbe potuto danneggiare gravemente e rapidamente di più le buone relazioni tra Stati Uniti e Italia che se il governo italiano avesse dato seguito alle richieste di arresto dei agenti della CIA fatte dalla procura di Milano quando il secondo governo Prodi viene sostituito dal terzo governo Berlusconi gli americani tornano all'attacco il 6 febbraio del 2010 il segretario della difesa Robert Gates ringrazia il ministro della difesa Ignazio Larussa per gli sforzi che ha fatto perché sul caso Abu Omar si affermi la giurisdizione degli Stati Uniti io credo che quando un ministro vuole che sia la sua giurisdizione a processare è un insegnamento cioè non abbandonare mai il proprio militare anche quando sai che ha sbagliato quindi io avevo certamente a cuore la nostra posizione ma ero in grado di capire perfettamente e qualche volta di invidiarla la capacità degli Stati Uniti di essere sempre fino in fondo a fianco quindi non c'è la gestione di dignità del paese la dignità del paese di sovranità nazionale italiana certo che sì glielo ho detto è la prima cosa ma dall'altro lato io mi chiedo se un soldato italiano è capitato abbiamo avuto i nostri due casi in India ci sono bravo i due Marò bravo allora in quel caso cosa chiedevo io che venissero giudicati in Italia non andò così con i due Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone l'Italia non ebbe la forza per riportarli da noi farli giudicare nel nostro paese e per anni rimasero prigionieri in India ben altra forza di pressione e ben altri risultati ottennero gli americani per i loro uomini della CIA come ammette lo stesso Franco Frattini ministro degli esteri del secondo e del quarto governo Berlusconi noi non abbiamo neanche chiesto l'estradizione e non abbiamo visti processati i piloti americani che fecero cascare la funivia del Cermis come dire magari per un gioco pericoloso a bassa quota quindi cose di gravità strepitosa eppure non c'è stato un processo e tantomeno un'estradizione è una tradizione che purtroppo lega gli Stati Uniti a tutti i suoi principali alleati non soltanto l'Italia è un bel rapporto di forza è un rapporto di forza che squilibrato direi che non abbiamo avuto ancora il coraggio di mettere in discussione la nostra sovranità nazionale è stata messa a dura prova anche nel 2003 l'anno della guerra americana in Iraq quando Franco Frattini era il ministro degli esteri nei dispacci diplomatici che provenivano dall'ambasciata americana a Roma pubblicati da Assange si parla dell'Italia come fosse il loro cortile di casa maggio 2003 Mel Sembler l'allora ambasciatore a Roma scrive un rapporto confidenziale al Dipartimento di Stato in cui racconta cosa gli americani hanno ottenuto dall'Italia per la guerra all'Iraq abbiamo ottenuto tutto quello che chiedevamo il governo ci ha messo a nostra disposizione gli aeroporti i porti e i treni e abbiamo potuto trasportare 8000 truppe da combattimento mentre dalla base di Aviano si è mossa sul suolo italiano la più grande brigata da combattimento avio trasportata dai tempi della seconda guerra mondiale il governo italiano ci ha dato assistenza per realizzare più di 1300 missioni sul teatro di guerra partita dalla base di Sigonella il governo italiano è riuscito a prevenire le proteste dei pacifisti che avrebbero potuto intralciare o fermare i treni e i camion che trasportavano in Italia materiale militare queste sono le incredibili immagini della manifestazione contro la guerra del 15 febbraio del 2003 milioni di persone arrivarono a Roma per dire no all'intervento americano in Iraq e per spingere il governo Berlusconi a tenersi lontano dall'avventura americana come avevano fatto Francia e Germania nel rapporto l'ambasciatore Sembler elogia Berlusconi per essere riuscito a supportare la guerra in Iraq nonostante la maggioranza degli italiani e tutti i partiti di opposizione fossero contrari il governo Berlusconi ha portato un paese completamente contrario alla guerra il più vicino possibile politicamente allo stato di belligeranza pur riconoscendo che l'Italia può apparire come un paese frustrante arcano e bizantino è il posto perfetto per fare i nostri affari politici e militari senza questo nostro contributo certamente quella missione internazionale ormai decisa dalla Nato e dall'ONU non sarebbe stata facilmente realizzabile che era un punto delicatissimo gli americani lo schivano se no non si sarebbe fatta la missione è evidente se noi non avessimo utilizzato quando si è fatta la missione l'ONU non aveva detto agli americani andate a bombardare Bagdad e infatti noi non abbiamo partecipato alla missione però abbiamo consentito agli americani di utilizzare il territorio nazionale per fare la guerra è evidente che non possiamo sindacare cosa va a fare un aereo che parte dal nostro territorio quando c'è un quadro ormai accettato le Nazioni Unite le hanno fatto male queste parole pur riconoscendo che l'Italia può apparire un posto arcano e bizantino fino alla frustrazione siamo convinti che è un posto eccellente per fare i nostri affari politici e militari ma gli americani hanno sempre avuto questa tendenza a considerare l'Italia un paese che si può rapidamente piegare e questo hanno fatto male i conti perché in molte occasioni della storia italiana noi con grande lealtà abbiamo detto agli americani che certe cose non si potevano fare l'Italia l'Italia